Ciao a tutti farmer e benvenuti in questo nuovo video Prima di tutto per farvi vedere quello che volevamo fare oggi vi ricordo il like e l'iscrizione per supportarci al massimo e poi ho visto che molti di voi non sono iscritti vi ricordo di farlo perché è gratuito e non costa niente Allora oggi volevamo mettere l'insalata in mezzo ai pomodori perché abbiamo lasciato da un pomodoro all'altro 60 cm e c'è un impianto gocciolante poi la varietà che mettiamo giù è la liscia verde e poi abbiamo altre qualità in questa cosa mettiamo la liscia verde come vedete ci avanzano perfettamente 9 spazi anche 10 però noi volevamo mettere 9 cioè uno qua, uno qua, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e adesso dobbiamo decidere se metterlo qui oppure qua poi vedete che qui ci sono queste ultime piantine che uscirà un altro video che vi spieghiamo dove metterle o sarà già uscito adesso non so allora adesso iniziamo a mettere l'insalata come nello scorso video vi avevo fatto vedere posso schiacciare, tirare piano mi raccomando l'insalata è molto più delicata dei pomodori quindi ne mettiamo giù e così facciamo fare tutte le piantine intanto io incomincio a metterle giù qui ci sono molto buco apriamo un po' le radici vedete? l'abbiamo aperto intorno poi noi impegniamo la terra allora la direttiamo bene apriamo poi mi raccomando pulite sempre poi schiacciamo un po' e un po' e un po' e un po' allora ragazzi abbiamo passato qualche giorno abbiamo finito di piantare l'insalata abbiamo messo diverse varietà la canastra l'abbiamo con la liscia siamo andati a comprare oggi altre piantine e le abbiamo messe giù 9 poi semineremo i metodi di insalata quella che poi ricresce una volta tagliata e non faremo un video perché sembrano la stessa cosa quindi noi per il momento ci fermiamo qui ci vediamo in un prossimo video vi ricordiamo il like, l'iscrizione e scrivetelo nei commenti se vi piace questo orto e questi video ciao alla prossima grazie a tutti